Oggi siamo ospiti di questa magnifica villa a Sedriano, villa pezzolica nella di Gherzi. Ringraziamo in particolare la signora Gherzi che ci ospita e avremo il piacere di sentire un concerto che verrà realizzato dalla Bettoria McCann, queste quattro splendide musiciste, a cui adesso noi inviamo il benvenuto e vi auguriamo un piacevole ascolto. Grazie mille. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.